Questa categoria offre un trampolino di lancio ideale per ogni aspirante pilota. Auto da competizione a due ruote motrici derivate da successi commerciali di ieri e di oggi. Grazie alla potenza ridotta non risultano troppo impegnative e in mano a piloti esperti sono capaci di prestazioni eccellenti. Grazie a tutti.